Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo Matteo Salvini e il sondaggio SVG, la Lega in Emilia-Romagna è avanti sia come candidato, sia come coalizione, sia come partito. Quindi Salvini in un'intervista fatta al quotidiano La Stampa parla con grande fiducia delle elezioni che si svolgeranno in Emilia-Romagna domenica 26 gennaio di questo mese. I sondaggi SVG che io ho a disposizione vedono il centrodestra avanti di due punti e che la Lega è al 33% primo partito e che Borgonzoni è al 47% contro il 45% di Bonaccini. Quindi nel sondaggio sarebbe schiacciante su tre direttive, quindi sia come partito, sia come coalizione di centrodestra, sia come candidato Lucia Borgonzoni. Sui sondaggi in Emilia-Romagna veramente c'è un caos totale perché io che ho messo e ho fatto tanti video parlando di sondaggi in Emilia-Romagna, io ho sempre visto questo, sondaggi commissionati dal PD danno in vantaggio il PD di quasi 10 punti, sondaggi commissionati dal centrodestra danno in vantaggio il centrodestra di quasi 10 punti. Statisticamente 10 di qui e 10 di là è impossibile, quindi l'idea che il cliente abbia sempre ragione mi è venuta in mente. Mentre ad esempio c'è un nuovo sondaggio proprio di oggi sulle elezioni in Toscana. Ecco, queste elezioni in Toscana sono state commissionate dal PD e guardate un po' la strana coincidenza, anche in questo caso il PD sarebbe in vantaggio di 10 punti, non di 1, di 10 punti come gli stessi sondaggi danno in vantaggio il PD in Emilia-Romagna di 10 punti, all'opposto quelli di centrodestra danno in vantaggio il centrodestra di 10 punti. Quindi, attenzione, i sondaggi sono da prendere veramente quasi senza considerarli, senza considerazione perché altri sondaggi invece danno i candidati di Borgonzoni e Bonaccini sostanzialmente in parità. Qualcuno dà un leggero vantaggio di Bonaccini di 1-2 punti percentuali. Quindi diciamo che il sondaggio fa parte delle armi elettorali per poter vincere, perché voi sapete l'effetto carrozzone, l'effetto pecorone, quando la gente cerca comunque di salire sul carro del vincitore. Se ancora non ha vinto ma pensa che sia il vincitore, già va a votare per il vincitore. Quindi, attenzione che questo è il modo di agire delle persone in qualsiasi occasione. Si tenta sempre di salire sul carro di chi probabilmente vincerà. Questo lo sanno i sondaggisti, lo sanno i partiti politici, quindi con molta probabilità chi commissiona il sondaggio ha sempre ragione. Voi capite quello che voglio dire. Matteo Salvini poi parla anche di Luigi Di Maio nel suo ruolo di ministro degli esteri e parla della questione della Libia, ridotta ormai ad una polveriera con un concreto rischio di infiltrazioni terroristiche e dice Di Maio è inesistente, noi in Libia siamo fuori da tutti i giochi, abbiamo perso la faccia e la credibilità. Eravamo i numeri uno e ci siamo fatti fregare pure dai turchi. In politica estera riparare agli errori è la cosa poi più difficile, dice Matteo Salvini, sempre intervistato dalla stampa. Matteo Salvini dice che questo governo è più in colore, è più in sapore che ci sia stato, che lui abbia mai conosciuto. È precisa, i miei commenti di Capodanno non erano per il discorso di Mattarella quando ho detto che a Capodanno si fanno discorsi più milleflui, milliflui in colori, in sapori, dice le mie parole che sono sembrate scomode e contro il Presidente della Repubblica, no, erano contro il governo, mi avete capito male, mi avete interpretato male. Matteo Salvini parla anche dell'avvocato del popolo di Giuseppe Conte e dice non ha un voto, non esiste, ha scoperto il gusto della poltrona e ci vuole rimanere, è irrilevante, si goda il potere finché può. Per i sondaggi anche Monti e Gentiloni erano in vetta, ma poi si è visto che non avevano il voto del popolo. Si parla poi di Giuseppe Conte con le sue varie retromarce, quando dice una cosa e poi l'opposto della stessa cosa, ad esempio dice è passato da viva la flag tax ad abbasso la flag tax, dal no all'autorizzazione a procedere contro di me al sì. No, attenzione, sulla Gregoretti non solo Italia Viva potrebbe schierarsi con Matteo Salvini per il no all'autorizzazione a procedere, anche il PD vorrebbe studiare le carte per capire meglio quello che sta succedendo. Probabilmente anche il PD non vuole realmente far processare Salvini, un conto è quando la sfida è tra avversari politici, ma comunque definire e cercare di far fuori politicamente Matteo Salvini con questi metodi inquietanti è qualcosa che va al di fuori dalla leale competizione politica, qui si va proprio nel fatto di inimicizia, di nemici, di persone che si vogliono comunque far fuori politicamente, far fuori dalla scena politica, quindi anche il PD dice ma a tutto c'è un limite e in più hanno capito che un eventuale processo a Matteo Salvini che durerebbe anni porterebbe Matteo Salvini molto presto alla presidenza del Consiglio molto prima del previsto, perché molti sondaggisti dicono che questo della richiesta dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sarà un gigantesco vantaggio proprio per il leader della Lega, che però in tribunale probabilmente riuscirà a dimostrare che quella non era una decisione singola ma una decisione collegiale e che non sussistono quelle accuse di sequestro di persone aggravato e abuso di potere e a difendere proprio Matteo Salvini potrebbe essere anche l'avvocato Giulia Bongiorno che è della Lega anche lei. E anche per questa ragione il PD dice ma se noi creiamo un martire, il martire Salvini, questo arriva al 90% dei consensi in Italia. Matteo Salvini poi aggiunge voglio vedere i 5 stelle al Senato votare l'opposto di quello che hanno votato pochi mesi fa per difendermi, ma caro Salvini ormai dovresti capire che i 5 stelle soprattutto con il suo leader Di Maio la mattina dicono una cosa, a mezzogiorno ne dicono un'altra, la sera alle 6 ne dicono una terza ancora differente, non c'è una rettitudine morale nel dire per me non è questo caso, non è sequestro di persona come non lo era prima e come non lo potrà essere mai, no, mi conviene prima dire che no, adesso mi conviene dire che sì, perché dicendo sì io faccio fuori politicamente Matteo Salvini, ma i sondaggi e i sondaggisti dicono proprio, raccontano un'altra storia. Questo della richiesta di un'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è un autogol del mondo di sinistra, un autogol del mondo di sinistra. Attenzione, il mondo di sinistra, non sto parlando di politica, sto parlando di tutto il mondo di sinistra, voi mi potete capire, tutto il mondo di sinistra non ha ancora capito che cercare di incarcerare Berlusconi, Salvini, in un futuro anche la Meloni, poveretta, subirà la stessa cosa. Il creare dei partiti atti solo ad attaccare e dei partiti contro una volta Berlusconi e adesso Salvini non portano a governare, portano a far vincere per vent'anni quello che viene attaccato. Questo ormai lo sanno anche i sassi. Com'è possibile che anche loro non lo capiscano? Ma lo stanno capendo perché avete visto Italia Viva di Renzi dice noi voteremo a favore di Salvini, il PD ci sta pensando. I 5 stelle che sono relativamente nuovi e l'era berlusconiana l'hanno vista sì e no, anche perché sono abbastanza giovani, quindi io posso che ho 45 anni ricordare tutta l'era berlusconiana dal 1994 in poi, mentre chi come Luigi Di Maio hanno 33-34 anni, non so quanti ne hanno, che ne hanno 10-11 meno di me, ricordano un Berlusconi già più grande, già con un partito che si sta sgonfiando, quindi non hanno visto realmente l'accanimento di tutto il mondo di sinistra, cercate di capirmi non solo la politica, tutto il mondo di sinistra contro Berlusconi, i processi eccetera eccetera e poi con non so quanti processi ha avuto Berlusconi, ne avete visto, gli hanno dato l'ergastolo? No, è lì, quindi soldi pubblici spesi per processare Berlusconi che poi alla fine non è venuto fuori nulla mescolato con il nulla, nulla mescolato con il nulla, sì certo aveva il suo vizietto, il suo vizietto per le donne, gli piacciono le donne, gli piacevano le donne e quindi vabbè, quella poi è un'altra storia, però non sono riusciti ad incriminarlo in tal modo da farlo finire in carcere, ma ci hanno provato per vent'anni, ci hanno provato per vent'anni, adesso tocca a Salvini ma in una maniera ancora più pesante, perché Salvini non viene attaccato sulle televisioni che non ha, non è attaccato sulle sue aziende che non ha, quindi si cerca di attaccarlo esaminando centimetro per centimetro il suo lavoro. Probabilmente anche un giorno i 5 Stelle, anche i 5 Stelle un giorno, capiranno che cercare di attaccare il politico del momento, il politico che nel momento ha più del 30%, perché attenzione i partiti di solito non arrivano più del 40%, il 40% è proprio il tetto massimo, il serbatoio pieno, i partiti che poi andranno al governo hanno come la Lega adesso tra il 30% e il 40%, è impossibile andare oltre, quindi cercare di fermare il politico del momento, cercando di metterlo in carcere per sequestro di persone aggravate e abuso di potere, sinceramente mi fa veramente ridere, mi fa pensare che l'Italia non sia poi quella grande democrazia che io ho sempre pensato, io ho sempre pensato di essere in un paese di alta moralità e di alta democrazia, però queste mie credenze del passato cominciano un po' a scricchiolare. Quando vedo indagato Matteo Salvini per dei reati gravissimi e poi vedo chi ha fatto delle cose non giuste ricevere delle medaglie e sbeffeggiare Matteo Salvini mi rendo conto che c'è qualcosa che non va in maniera profonda nel paese. L'avete visto, ieri vi parlavo proprio in un video di ormai quello che hanno fatto un'inchiesta giornalistica fatta da un'università prestigiosa, la Columbia University in Inghilterra, hanno intervistato quasi 30.000 giornalisti in tutto il mondo e sorpresa delle sorprese, in Europa l'Italia è quella che ha i giornalisti più a sinistra di tutti, c'era una scala da 0 a 10, dove 10 era il colore mi sembra verde o azzurro, poi a scendere verso lo 0 il rosso diventava sempre più forte. Ecco, il giornalismo in Italia aveva la prima casella nello 0, il rosso più forte, cioè il paese con televisioni e giornali giornalisti più a sinistra d'Europa e tra i paesi più a sinistra del mondo, cioè solo davanti all'Italia ci sono i paesi dittatoriali di stampo comunista, quindi l'Italia è subito dopo i paesi dittatoriali, è un qualcosa che vi fa capire perfettamente tanti giornalisti italiani, Gad Lerner e Lilly Gruber e l'altra la Berlinguer e Fabio Fazio e Santoro e Floris eccetera e possiamo andare avanti un'ora nominandoli dai più famosi a quelli meno famosi, perché attenzione non sono solo quelli famosi, anche quelli completamente sconosciuti sono schierati completamente verso sinistra, quindi diciamo che la situazione della diffusione, manipolazione delle notizie è incredibile e nonostante tutto questo, nonostante tutto questo, il paese si è spostato ormai a destra, centrodestra, quindi poi farò un altro video di una persona, di un economista famoso che dice l'Italia è paradossale, la gente ormai è di centro, centrodestra, mentre gli organi di informazione sono schierati assolutamente a sinistra e cercano di convincere in maniera maniacale, in maniera frenetica, ormai il popolo che è di centrodestra ma non ci riescono e l'unico effetto che riescono ad ottenere è proprio l'indignazione delle persone che cambiano canale e dicono ma come è possibile vedere ancora questi conduttori televisivi, questi giornalisti, questi giornali che pubblicano fandonie di tutti i tipi, che manipolano l'informazione girandola come vogliono loro per indurci a pensare, quindi un paese paradossale, una piccola elite di giornalisti e conduttori televisivi contro una massa ormai gigantesca di italiani di centrodestra, quindi gli italiani devono purtroppo sorbirsi tutta la televisione di sinistra, gran parte, la maggior parte dei giornali di sinistra e non ce la fanno più gli italiani, purtroppo per cambiare le cose bisognerebbe che le testate giornalistiche, le televisioni cominciassero a riequilibrare le cose, mettete una Lilly Gruber e un Nicola Porro e non 10 Lilly Gruber e un Nicola Porro, capite? Ho 5 Gadlerner, 5 Lilly Gruber e un Nicola Porro e un Giordano e un Del Debbio perché è impari ormai perché i programmi di Rete4 hanno avuto un boom quest'anno, attenzione, l'anno appena passato, il programma di Nicola Porro ha avuto un assoluto boom di ascolti incredibile come Giordano e Del Debbio perché la gente li ascolta perché dall'altra parte c'è solo calunie, menzogne, odio, rabbia, rancore, notizie manipolate, girate, forvianti, la gente vuole ascoltare i Nicola Porro, i Giordano e i Del Debbio, non ce ne sono molti, io ne menziono questi tre ma non ce ne sono molti altri, quindi c'è bisogno di pluralità, non di manipolazione e qui l'Italia ormai la maggioranza è di destra, di centrodestra e allora che cosa succede? Che la gente si iscrivono 4 milioni di persone sulla pagina Facebook di Salvini proprio per sentire una voce diversa, proprio per estranearsi da quel mondo di odio, di rancore, di rabbia verso un centrodestra che viene definito sempre razzista è fascista, è razzista, è fascista, che semina odio, ma nel centrodestra non c'è né semina d'odio, né razzismo, né fascismo, c'è un centrodestra patriottico, orgoglioso delle tradizioni, di tutti i tipi di tradizioni, dal crocifisso al presepe, a tante altre cose, al tortellino a Bologna, a tante tante cose che hanno caratterizzato e caratterizzano fortemente la nostra civiltà. L'Italia è uno dei paesi che ha più tradizioni radicate, provate a girare il mondo, vedrete che a Natale non hanno tutte le nostre cose che facciamo, le nostre usanze, dalle altre parti è tutto un po' così campato per aria, l'Italia è un paese di forti tradizioni, non possiamo permettere che vengano cancellate, bisogna tutelare la nostra storia e la nostra civiltà, non bisogna sempre pensare che gli altri siano migliori di noi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Vi dicevo l'iscrizione è gratuita e io chiedo l'iscrizione perché fa avere più visibilità al canale, più iscritti, più i video vengono messi in alto da YouTube e più persone li possono vedere. Siamo anche su Facebook, nella pagina Tele Italia, dove ci sono tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.